Zorro, guarda chi ti ha portato. Ti avevo dato la mia parola, no? Figlio piccolino. Ssh, shh, shh. Dai, buono. Il mio Johnny. Sei a casa? Ah, il mio Johnny. Eh? E chi c'è? C'è papà? Vieni, figlio mio. C'è papà. Vieni, figlio mio. Vieni, figlio mio. Ecco, piano, piano, tesoro, eh. Ecco, bravo. Sei contento, eh? Contento di tornare a casa? Vieni qua, vieni qua. Lui è quello che l'aveva preso, si vuole scusare, eh? Chiedi scusa. Scuso. Fa vedere che ti è successo. Sei caduto. Che ti hanno fatto? Niente, è scivolato. È scivolato un po', però bella scivolata. Dai, vieni, spiego una cosa a questo ragazzino. Non dovevi fare quello che hai fatto. Noi veniamo qui per fare il circo, capisci? Veniamo per farvi vedere com'è il circo con gli animali e tu ci vieni a rubare, non fa bene. Sono cose che non si fanno. Io non vengo a rubare nel tuo quartiere, eh? Quindi adesso vieni, guarda. Vieni con me. Vieni. Faccio vedere. Ehi, che stai facendo? Toro, chi è questa cazzata? Ti lascio vedere. Garrabbiate. Non fare cazzate. Non chiediti scusa. Forza. Forza, non chiediti scusa. Adesso basta, fallo uscire. Adesso basta, fallo uscire. Fallo uscire, un sparaleone. Grazie. Grazie a tutti.